Stiamo preparando una torta galattica per il compleanno di un bambino che adora la fantascienza. Ho deciso di decorare la torta con mondi alieni e con astronavi spaziali. Ma gli effetti speciali non finiscono qui, questo volto vuole sfidare la gravità. Ragazzi, è venuto il professore, Carlos. Quando ho dovuto pensare a questa torta ovviamente è venuto in mente mio figlio Carlos. Come lui è un grande esperto, essendo piccolo non potevo fare a meno di chiamarlo. Questa va bene, quella perfetta, questa no. No, perché? Perché qua ci dovrebbe essere un pezzo dietro e anche qua. I colori come devono essere? Gialli e bianco e qua in mezzo il segno dei buoni. Kim, se non lo fai uguale sono un c***o. Ok, dai. È molto appassionato e si vede proprio. Io so che ha tanti libri, a parte che li ho comprati anche io per lui, ma non ho mai aperto un secondo libro. La mettiamo proprio così che curva, che sai quando sparano attacca proprio, no? Così. Cosa dici? No, bello, bello. Posso aiutarti? Sì? Ok, dai una mano, io vado un attimo a vedere Mauro come prosegue la torta, ok? Carlos, ma tu devi fare il pasticcere da grande. Io voglio sapere se tu devi diventare il mio capo o no? Sì, forse. Marco. Tutto qua fa? E tu devi rispondere, devi dire sì chef, sì chef. È proprio un mini, mini Ernest. Mini Knam. Ci siamo? Ci siamo Ernest. Stavo facendo la linea. La crepa, ma neanche l'altro dall'altra parte. Hai fatto la mousse? Sì, la mousse è pronta, quasi, devo finirla. Vulcani? Vulcani. Quando ho provato che i pianeti stanno nell'aria, poi io devo creare una incanalatura, perché l'aria deve uscire da una cosa, per cui pensate ai vulcani, inserendo dei tubi di plastica dove noi attacchiamo i fondi sotto e sparano fuori l'aria, così sembrano che i pianeti volano sopra il vulcano. Anche questi, puliti? Sì, sì, poi puliamo quando... Perché sennò abbiamo un problema dopo. Guarda, si chiara come, guarda che maestria. Mauro, guarda che roba, il lavoro è un po' più pulito. C***o, vado più piano, così. E per creare la superficie tipo lunare abbiamo messo sopra la miserabile a base di mandorle. Quanti sfogliate le fama? Ho anche una per te? Io spero, spero che ne abbia fatta almeno una ventina. Che l'alla, che l'alla, mi va dicendo che mi vuole andare. Se credo che mi faccio sangavare, se credo che mi faccio sangavare. Se credo che mi faccio sangavare, se credo che mi faccio sangavare. Che l'alla, che l'alla, che l'alla. Adesso gliela faccio massaggiare, speriamo bene. Ah, guarda questa plalina. Che cosa? Plalina, guarda. Bralina, con l'R. Dillo? Plalina. Bralina. Dillo? Pralina. Bravo. Sì? Due minuti. Sì? Oh, ecco la! Quando io ho visto questa sfogliatella moderno, per la prima volta, ho detto, è un dolce, ma sicuramente non una sfogliatella. Come mai la sfogliatella qua non è perfetta? Le sfoglie? L'imperfezione dallo stile al dolce, no? E' buono? E' buono, sicuro? Certo. Posso? Adesso con un morso si mangia tutta la cupola. Quando io l'ho morso, ho un'esplosione di gusti del sud, pazzesco. Buono. Bravo. Non mi menti, veramente. Bravo. Molto, molto buono. Per me ha vinto veramente molto merito, anche se io non ho assaggiato gli altri. Grazie, buona. Ciao. Non è male? Buona, buona. Molto difficile da mangiare. Casca tutto un po' no. No, no. Che se ne frega. Ha vinto, basta. A posto. Cosa fai qua? Mi sto pesando, mi sto aspettando. Aspenda. Pronto? Certo. Allora chiamami. Io invece vado a seguire. Chiamano. Ok. Spada laser, creare in cioccolato e zucchero non è tanto facile, perché io devo inserire dei leds che possa accendere. Qual è l'andiamo a Mauro? Allora Mauro e Yoda. Qual è? Mettiamo un po' di miele sull'adio. Abbiamo iniziato a mettere insieme la torta. L'abbiamo coperto esternamente con della pasta frolla un po' frullata sopra che crea la terra intorno alle cratteri e alla fine con una pasta zucchero arancione per raccogliere tutto. La consegna di questa torta questa volta era completamente diversa, perché normalmente noi entriamo dentro, le persone aspettano, accendiamo le candele o quello che devono accendere e tutti fanno wow 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 wow, invece questa volta siamo entrati in casa, abbiamo montato la torta sul posto. Non mi ricordo che fare il pasticcere era così dura, tocca fare anche il falegname. Perché io devo attaccare il phon, mica posso andare con la torta che vuole, se no mi vuole via tutto. Capo? Capo? Si bolla? Eh? Si bolla? Possiamo provarlo? Scusami hai perso c'è una bottiglia di champagne? Facciamo un altro scommesso? Basta! Ma c'è sempre l'ansia. Funzionano? Non funzionano, il laboratorio funzionava, se forse non funziona. Facciamo una prova. Ok, tutti e tre insieme. Ma io essendo una persona estremamente positiva, io do l'input positivo e l'energia positiva mi raccoglie e tutto funziona sempre. Il complesso della torta era di mettere sui pianeti e soprattutto questi tre astronavi che volassero in una certa inclinazione, come ha detto Carlos. Abbiamo messo su i pianeti che volavano, all'ultimo abbiamo messo il ghiaccio secco. Abbiamo aperto la porta. Ho visto tanti bambini. Bellissimo! 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 Non ho mai visto una torta più bella! Wow! Mickey, Mickey, guarda lì la palla su! Si sono avvicinato alla torta, sembravano già dentro. Ragazzi, se voi andate un po' indietro, arriva la seconda sorpresa. è fatto entrare Kim come ninja e Mauro come cappellone. Le palline possono essere mangiate, ma solo se vi prendete al volo. Auguri! E' bello! Ma l'astronave si può mangiare, ma anche questo si può mangiare. Ho detto ragazzi, potete mangiare tutto tranne il ghiaccio secco. Io ho finito la frase. Hanno morso gli astronavi, hanno rotto tutto. Alla fine hanno mangiato con le mani, non hanno fatto neanche il taglio della torta. Ho fatto mangiare un pezzo di nave? Poi sono arrivati anche i genitori mangiando con le mani. Un po' di suolo spaziale. Io sono rimasto così, sono andato sul balcone guardando fuori dal vetro così. Perché ho detto non è possibile. Ah che schifo, andiamo a lavare le mani. Poi alle fine le abbiamo dato questi spada laser che si sono fatto battaglia e alla fine ho visto anche che hanno battagliato la torta. Proprio un bambino ha massacrato la torta. Io ho mai visto una roba così. Quando vedi poi questi occhioni dei piccoli bambini senza bocca, già gli occhi sorridono, io mi sciolgo. E' fantastico veramente. Io penso che questa torta rimane in loro memoria per tutta la vita. E' fantastico.